Eccoci qua, adesso filmiamo il col dei pezzi, tempo di mettermi il guanto e filmiamo il col dei pezzi, a porta, ecco qua arriva la seggiovia della coca bassa, qua ha sparato neve, si vede che ci sono gli alberi ancora bianchi e qua c'è questo sentierino simpatico che è la col dei pezzi, ora si intravede quella pista che è il muro dell'erta, adesso scendiamo di qua, non andiamo più veloce, ci stiamo trascaldando, salto, hop là! E' un po' fermo in mezzo Eccola, la gente che scende dal giro dell'aerba Questo è il punto che è un ballo impegnativo Ecco questo è un collegamento pianizzante tra l'aerba e tra la grava C'è l'aria che è gelida e ho la faccia che mi si sta agghiassando, sicuramente è freddo Però c'è un profumo del bosco, del legno che è ottimo Adesso non so se andare giù o farmi il sentiero e farmi il campo scuola o se andare giù e farmi la grava bassa Io opterei per la grava adesso, però per farmi la grava metterei via questo cellulare Questa si fuggia della grava, qua è il grano, grava bassa Qua una volta c'era un impianto di risalita dove si vede quella persona Qua c'è il muro Un po' di gente si ferma, si fuggia E' là da dove siamo venuti noi La grava è la pista che mi vuole affrontare E da qui si gode già un bel panorama insomma Mettiamo una setta per le lacchette Mettiamo una setta per le lacchette